Il museo di Capodimonte di Napoli L'opera è stata accompagnata da un'ampia selezione di lavori del pittore spagnolo a mostrare in anteprima alla stampa il capolavoro il direttore del museo di Capodimonte, Silvain Belanger. È la prima volta che la regione compagna il mesogiorno a una mostra dedicata a Picasso, il più grande artista del Novecento. La mostra dimostra una cosa fondamentale, che Picasso con parada dimostra la sua passione per l'arte popolare. Il teatro napoletano, Picasso è sempre stato appassionato del teatro. A Napoli ha visto il teatro in 1917, l'ha visto dappertutto, il teatro era dappertutto, il teatro di marionette, i guignols e poi il teatro popolare. Questo è, credo, la cosa la più importante che dimostra che su questa mostra, con 60 opere di Picasso, con la più grande pittura di Picasso mai fatta, che è questo sipario che si chiama Parade, per il Balletto Parade, ma che non è veramente un sipario perché si legge come una pittura a 17 metri di lunghezza, 11 di altezza, enorme, è entrato con difficoltà nella sala da ballo di Capodimonte e devo dire che questo incontro storico della sala da ballo, con questo meraviglioso decoro e il sipario, è una bellezza fenomenale.